Sono 3.189 nuovi casi di covid in campagna nelle ultime 24 ore, quanto riferisce il quotidiano bollettino dell'unità di crisi. 13.529 tamponi processati con un tasso di positività che si attesta al 23,57%, sostanzialmente stabile rispetto a quello di ieri. Non ci sono morti, i posti letto in terapia intensiva occupati sono 15 gli stessi di ieri, a fronte di una disponibilità complessiva di 575 posti. E intanto la rete sanitaria regionale corre ai ripari per l'emergenza estate. Tra ferie e contratti in scadenza il quadro è a tinte nere. Sono molte le aziende in affanno per la cronica carenza di personale. Dai camici bianchi agli infermieri mancano figure preziose e ad andare in affanno sono soprattutto 118 e pronto soccorso. Sullo sfondo il caso di un detenuto colto da malore appoggio reale, salvato in extremis da un infarto dopo 30 minuti di manovre. Il garante per i detenuti, Samuele Ciambriello, spiega a proposito delle assunzioni sanitarie che ho richiesto, l'AS di Napoli mi ha comunicato che appoggio reale, come a secondigliano, si sta procedendo ad un'assunzione di oltre 90 infermieri, 50 operatori sociosanitari, con i tiner e l'assicurazione di 45 medici che andranno ad integrare quelli già presenti.